I nostri amici a quattro zampe avranno più aree e soprattutto risistemate per poter sgambettare. Sono infatti partiti i lavori per la realizzazione e la sistemazione delle aree per cani nei parchi della città di Arezzo, Pertini, Baldaccio, Villa Severi e Pantano. Nel dettaglio, progetto per progetto, possiamo vedere tutte le varie realizzazioni. Ad esempio, al parco Pertini, lungo via 25 Aprile, l'area qui è già stata ripulita. Sarà divisa in due per tenere separate le zone per cani di taglia piccola e quelli di taglia grande. L'accesso sarà direttamente dal parco Pertini. La stessa separazione avverrà nell'area cani del parco Baldaccio. È stata creata invece una recinzione di separazione tra l'attuale area cani del parco Villa Severi e il fossato che costeggia le mura. Infine sarà realizzata un'area per cani all'interno del parco Pantano, nella zona pianeggiante dello stesso che costeggia il bicchieraia. L'area sarà sempre divisa in due con la separazione tra lo spazio per i cani più grandi e quelli più piccoli. Con questi interventi abbiamo risposto ad un'esigenza manifestata da molti cittadini, commenta il vice sindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini. I lavori sono già iniziati e stanno procedendo regolarmente. A breve i parchi interessati dagli interventi avranno delle zone per i cani riqualificate e alcune addirittura ex novo, come nel caso del parco del Pantano.